Il leader della Lega Matteo Salvini prova a sbloccare l'impasse sul Quirinale, oggi ha vistosi a Letta sia Conte. Un doppio incontro per provare a sbloccare l'impasse, Matteo Salvini, nel corso di queste ore, ha visto sia il segretario del Partito Democratico Enrico Letta sia il vertice del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Il segretario Dem, interpellato all'uscita da Montecitorio sul summit, ha definito molto positivo il clima dell'incontro con l'ex ministro dell'Interno. L'ex premier, come ripercorso dall'Agi, ha anche confermato che si terrà un'ulteriore riunione nella giornata di domani. Salvini vedrà di nuovo Enrico Letta in queste giornate frenetiche per decidere il futuro del Quirinale. La notizia del summit è stata commentata anche da Giorgia Meloni che ha detto che è un bene che si parli. La valutazione del leader di Fratelli d'Italia è positiva. Ma oggi non è andato in scena soltanto l'incontro tra il leader del Carroccio e quello del PD, Matteo Salvini ha avuto modo di incontrare anche l'ex presidente del Consiglio giallorosso e gialloverde Giuseppe Conte. Stando a fonti grilline che sono state interpellate dall'Ansa, la chiacchierata tra Salvini e Conte è servita a rimarcare la totale sintonia sulla necessità di rafforzare e intensificare il confronto, iniziato la settimana scorsa, per mettere da parte al più presto le schede bianche e scrivere un nome che unisca il paese. Insomma, l'ex inquilino del Viminale sta ormai assumendo il ruolo di kingmaker per il colle, dialogando con le forze che compongono la coalizione di centro-sinistra. Come è naturale, in questa fase, i principali attori politici cercano la strada affinché le schede bianche scompaiano presto dal conteggio. Il risultato delle prime votazioni dovrebbe essere un coro unanime di schede senza nome. Una particolarità sull'incontro tra Salvini e Letta è uscita una nota stampa congiunta firma di entrambi i partiti di riferimento. Il che costituisce forse un unicum o comunque un caso davvero raro.